bentornati sul canale di anime dal mondo oggi parliamo di una cosa che ormai insomma siamo lì tra qualche giorno parliamo di halloween ma oggi vi dico come la penso ok partiamo dal fatto che halloween è una festa importata e chi l'ha importata questo lo vorrei tanto sapere perché effettivamente noi importiamo tantissime cose ma quelle vere e proprie essenziali quelle che dovremmo importare non le importiamo e non si sa per quale motivo per esempio ci importiamo tutte le feste noi siamo festaioli si le cose importanti non ci interessano e quindi non le importiamo ma bando alle ciance e visto che siamo vicini ad halloween un po qualcosa ve lo voglio dire anch'io perché insomma ne parlano tutti ma io volevo dire una cosa spero che vi faccia piacere anche sentire il mio parere con i miei amici scheletro questo qua e la zucca questa qua perché ci devono essere halloween giustamente ma quello che mi preme dirvi è che effettivamente il dolcetto scherzetto l'abbiamo importato e quindi non è propriamente una nostra festa una festa italiana però qualcuno la festeggia e ben venga è sempre un modo per festeggiare in più che non ci sta neanche male quello che mi preme dirvi è se andate a festeggiare halloween mi raccomando non fate fesserie non ve lo dico così da amico perché effettivamente chi beve chi si droga chi usa stupefacenti in genere ragazzi così non vi divertite ve lo assicuro non vi divertite assolutamente perché il giorno dopo non vi ricorderete neanche di che cosa avete fatto la sera prima e quindi non vi ricorderete nemmeno il divertimento passato quindi fate le cose con la testa divertitevi mascheratevi fate tutto quello che volete ma mi raccomando occhio al bere e soprattutto non fate stupidaggini con gli stupefacenti perché è una cosa veramente pessima il dire il mattino dopo a non mi ricordo niente ballo